Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video. Ieri sera abbiamo commentato la partita dell'Italia, proprio qui siamo tornati, c'era un po' di delusione nonostante il passaggio del turno per via dell'approccio che ha avuto l'Italia, della qualità delle partite giocate dall'Italia, c'è un po' di timore, anche perché la Svizzera sembra una squadra di quelle tranquille ad affrontare, ma non è così, tra l'altro piccola curiosità, avevo predetto Italia-Svizzera agli ottavi, andatevi a vedere il video sul canale di Seekwolf dove provo a ipotizzare tutto, l'Europeo ovviamente è impossibile ipotizzarlo tutto, però questo singolo ottavo sono riuscito a razzeccarlo e anche la struttura del tabellone, in realtà sto vedendo che le squadre già qualificate sono andate in quelle caselline lì, andiamo a vedere poi alla fine dell'anno, anzi alla fine del campionato europeo, quante saranno riuscite a beccarne. Ieri sera mi avete scritto in tanti che Zaccagni ha fatto un gol alla del Piero, nel cavolo se avete ragione, non ci avevo pensato, ma effettivamente è così, è diversissima lo sviluppo dell'azione, perché non c'è il doppio intervento di Cannavaro, non c'è la palla dentro per Totti, non c'è Gilardino che potrebbe andare dalla bandierina, però c'è Zaccagni che tira a giro su quel palo lì e ci porta a Berlino, esattamente come aveva fatto Alex nel 2006. Quindi sì, effettivamente il gol è simile, proprio il tiro e come si insacca il pallone, quindi un bel tiro a giro sul palo lontano, l'assist non è di Gilardino ma è di Calafiori. Calafiori, ragazzi, io più lo vedo giocare e più avverto la personalità. Io vedo veramente un giocatore con tanta personalità, c'è stato anche un momento quando l'Italia era per forza di cose sbilanciata in avanti a cercare questo gol, dove ha subito qualche ripartenza, qualche lancio lungo della Croazia che Calafiori era l'unico che doveva andare a chiudere in due occasioni e l'ho visto anche arrabbiato con i compagni di reparto. Stiamo parlando di un ragazzo che è praticamente alla sua quarta partita con la nazionale italiana e diventa una sorta di leader da quel punto di vista, tant'è che si fa carico anche di quel rancore che è necessario per riportare sulla tara ai compagni. Giocatore che devo dirvi proprio papale, papale, voglio prendere. Cioè vorrei vederlo con la maglia della Juventus. Mi sembra un calciatore veramente molto forte. Secondo me, ben lontani dal One Caesar Wonder, quindi la stagione che fa in maniera perfetta perché è particolarmente in forma. No, mi sembra veramente un giocatore destinato ad una grande carriera, non so ancora quanto grande, ma sicuramente un difensore centrale che vorrei vedere al fianco di Bremer perché ti dà troppe cose in più. C'è stato un momento in cui era addirittura in area a cercare un tap-in. Calafiori non fa il difensore centrale. Calafiori sul disegnino iniziale, se vuoi metterlo lì, lo puoi ficcare lì nella formazione, ma Calafiori ti dà troppe cose in più. Calafiori è una personalità che fa invidia, secondo me. Giocatore che vorrei la Juventus, ovviamente bisogna cercare di capire quelle che sono le richieste del Bologna, cercare di capire come accontentarle senza svenarsi, perché non avrebbe senso per me investire 50 milioni di euro per un difensore. Senso questo non ce l'ha. Bisogna cercare di scavare e portare a casa dei giocatori a dei prezzi accessibili, come è accaduto con Douglas Lewis, che ieri sera ha fatto 0-0 contro la Costa Rica. Lui non ha giocato, sono attese a breve le visite mediche, lo sappiamo, si era detto all'inizio della settimana, ci siamo, quindi vediamo quando sarà seglato il tutto. Tra l'altro Costa Rica mi ha procurato ricordi del Vietnam, legati appunto alla nazionale italiana nel 2014, se non vado errato, nel Brasile non ha giocato nemmeno Bremer, 0 minuti pure per lui, invece ha giocato Danilo titolare come terzino di destra, quindi anche qui tante volte ci siamo detti, ma Danilo potrebbe ancora giocare, ma nel Brasile lo fa, quindi potrebbe anche essere, anzi secondo me con Tiago Motta è un giocatore perfetto da quel punto di vista per andare a ricoprire quella posizione lì per come interpreta i terzini Tiago Motta, quindi secondo me sì, poi vedremo se sarà davvero così oppure no. Voglio parlare ancora una volta di Kefren Turam, perché è il nome nuovo, dato che Douglas Lewis in questo momento sembra essere molto più tendente al chiuso che all'aperto, c'è una nuova trattativa da sbloccare. E attenzione perché nelle scorse ore leggevo che ci sono dei giocatori che potrebbero interessare all'inizio, tra cui Milik, che ha già giocato in Francia perché ha giocato nel Marsiglia e potrebbe tornare ancora una volta in Ligan, magari all'interno di questo scambio che andrebbe a coinvolgere i due calciatori. Turam per fortuna non ha una valutazione elevatissima, dato che non vuole rinnovare il contratto, vuole la Juventus e quindi su questo Giuntoli può lavorare a terreno fertile, come secondo me dovrebbe averlo lato Calafiori non tanto per il contratto quanto più per la volontà del calciatore. Quando ci sono le volontà dei calciatori di mezzo diventa sempre tutto un po' più facile, quindi Turam potrebbe essere il colpo e potrebbero essere dei giocatori inclusi anche nella trattativa per far abbassare ulteriormente il prezzo. Giuntoli riesce in queste masterclass qui, veramente, gli facciamo un applauso alla fine del mercato dalla durata di 30 minuti circa, facciamo una live di 30 minuti in cui applaudiamo se riesce a fare tutte queste operazioni. Io non lo conosco benissimo Turam, devo essere brutalmente onesto con voi, non avrebbe senso mettermi qui e dirvi ah mamma mia Turam, giocatore fenomenale, meraviglioso, top player, da prendere assolutamente, l'ho visto giocare 100 volte, non è così, non è così. Non ho probabilmente mai visto se non una partita della Francia, che credo che abbia fatto tra l'altro una presenza della Francia, una sua partita intera se non degli spezzoni recuperati sul web. Sto cercando di documentarmi quanto posso, è ovvio che è difficile andare a reperire delle partite intere dell'inizio, diciamo che non è proprio la prima cosa facile da fare e voglio provare a portarvi anche il solito contenuto in cui vado a spiegarvi quello che bene o male può essere l'operazione del calciatore come abbiamo già fatto anche con Douglas Lewis, l'avevamo costruito in live, lo so che oggi è martedì e il martedì è la giornata delle live ma sono appena tornato quindi alla Mauri, ho ancora delle cose da sistemare, provo a schedulare la diretta per domani dove andremo a costruire questo file che poi vi porterò in un altro video proprio qui sul canale. Dicevo che però sto cercando di farmi un'idea sul calciatore, sto leggendo che dal punto di vista dei piedi non siamo educatissimi, non stiamo parlando di Modric, dato che ieri sera l'abbiamo visto all'over ma neanche di Fagioli, dato che poi si è scambiato la maglia proprio con Modric, una bella staffetta, c'è stato il passaggio di testimone abbastanza importante, credo che Fagioli possa essere contentissimo di avere quella che potrebbe essere l'ultima maglia internazionale di Modric, veramente tanta tanta roba. Però è un giocatore di pura grendita, di recupero palloni, è un giocatore che è molto abile sui filtranti, è un giocatore che fa tanti falli, che prende anche tanti cartellini gialli, però recupera tanti palloni. Io ho guardato qualche clip e nelle clip che ho visto non esattamente in quel modo, perché comunque è un giocatore anche più strutturato, è un giocatore più alto, è un giocatore più bravo nel gioco aereo, però dal punto di vista del cercare di sradicare i palloni, avere la lettura di dover andare per recuperare la palla, mi ha ricordato tanto Gennaro Gattuso, Gennaro e Ivan Gattuso. Ripeto, giocatori diversi dal punto di vista proprio strutturale, ma in quella caratteristica lì mi ha ricordato tanto Gattuso. Un giocatore che non è mai stato il primo che andavi a prendere all'asta del fantacalcio, per intenderci, non è il giocatore che fa 5 gol e 10 assist in una stagione, non è quel tipo di centrocampista, però è quel centrocampista che ti serve anche per cercare di dare un po' più di equilibrio alla squadra, è quel polmone in più che poi ti permette di raggiungere anche dei risultati maggiori, è quel giocatore che magari non ti ruba l'occhio dal punto di vista del gol o dell'assist, che potrebbe comunque fare, perché ripeto nei filtranti non se la cava male, però è un giocatore che ti dà tanta sostanza, è un giocatore che ti dà tanto all'interno della partita di calcio, è il giocatore perfetto da mettere di fianco a un giocatore qualitativo, per cercare di dargli la possibilità di avere meno da correre. Mi ricordo un po' quando Pirlo arrivò alla Juve, Conte aveva in testa di fare il 4-2-4 e voleva fare Pirlo e Marchisio, tant'è che proprio con il Parma nel 4-1 dell'esordio della Juventus in gara ufficiale allo Stadium giocano Pirlo e Marchisio proprio lì, poi si ritrova Vidal in rosa ed è costretto, piacerebbe essere costretto anche a me per ritrovarmi Vidal in rosa oggi, a cambiare l'assetto e passare prima un 4-3-3 poi un 3-5-2 per avere il centrocampo a tre e dare la possibilità a Pirlo di faticare meno perché c'era la corsa di quel giocatore lì, quindi chissà che ipoteticamente non si possa arrivare a una struttura di centrocampo composto da Fagioli, Turam e Douglas Lewis con in panchina magari Locatelli pronto a subentrare nelle rotazioni, potrebbe anche essere una roba di questo tipo qui, quindi vediamo dove andiamo a parare, vediamo quale è l'idea della Juventus, mi sembra un giocatore comunque utile da inserire all'interno della rosa della Juve, un giocatore diverso anche da Rabiot, potrebbero secondo me giocare anche abbastanza bene insieme anche in una mediana 2 perché no, però la Juventus sta ragionando ovviamente sul ok, Rabiot non rinnova, allora quei soldi, quella parte dedicata al salario la vado a investire su qualcuno che ha un salario minore ma dove devo pagare un ingaggio, un cartellino ma con tanti anni di meno, anche esperienza di meno, anche struttura diversa perché sono due calciatori diversi anche dal punto di vista proprio internazionale, Rabiot è un titolare della Francia, Thuram ha giocato, ripeto, penso una partita solo con la nazionale maggiore, però l'idea della Juventus è corretta, è giusta, secondo me, dal mio punto di vista. Mi fa un po' sorridere anche pensare alla famiglia Thuram perché il papà, lo conosciamo bene, difensore di un certo tipo, che poteva giocare anche spostato sulla fascia, un centrale, un giocatore importante, il fratello è un attaccante, è un attaccante anche tecnico se vogliamo perché comunque non mi sembra malissimo dal punto di vista tecnico, poi non è Messi, anzi, gli ho visto fare alcuni tiri a giro a Thuram che sono partiti per aria, però è un giocatore che comunque ha una buona tecnica di base, quindi mi sembrano tutti i giocatori, difensore, centrocampista, attaccante, va bene i ruoli ma anche proprio come caratteristiche tecniche totalmente differenti uno dall'altro ed è strano trovare una famiglia di questo tipo qua. Ho letto che su Thuram ci potrebbe essere pure l'Inter perché dalla Germania sta arrivando questa offerta importante per Cialanoglu che arrivò a parametro zero e quindi tutto quello che arriva dal punto di vista economico nei confronti di un parametro zero è una bella plusvalenza fatta bene, l'Inter potrebbe accettare, anzi, secondo me farebbe pure bene accettare l'Inter un'offerta da 40-50 milioni di euro per Cialanoglu che è un giocatore fortissimo, non è quello il discorso, però è un giocatore che sta andando verso i trent'anni, un giocatore preso a parametro zero, un giocatore che vai a rivendere quella cifra, non gli prendi mai più quei soldi, puoi reinvestire in altri modi, in altri momenti, secondo me l'Inter non farebbe male a privarsi di Cialanoglu per delle cifre così alte e quindi si è ragionato anche sul nome di Thuram che sembra però voler andare alla Juve, anche se sarebbe forse suggestivo vedere i fratelli insieme, preferisco vedere che frenda noi, così andiamo a ripristinare l'equilibrio del Thuram in bianco nero piuttosto che in nero azzurro e ripeto sarebbe secondo me un bellissimo derby d'Italia ad andare a vivere con la famiglia Thuram totalmente interessata. Ragazzi queste sono le informazioni che volevo darvi, noi ci vediamo domani con un nuovo video e la diretta che vi avevo promesso e ovviamente dovessero uscire altre notizie ci vediamo sempre qui su YouTube a commentarle insieme. Ciao a tutti, un abbraccio e forza Juve!